Bakeneko è una creatura mitologica giapponese, uno yokai dalla forma di gatto, in grado di generare sfere di fuoco. Questa creatura è più grande di un normale gatto e può camminare anche stando eretto sulle due zampe posteriori. Inoltre può assumere la forma di un umano. Qualche giorno fa abbiamo parlato di Abura Akago, la creatura dalla forma di bambino che lecca l'olio delle lampade. Anche Bakeneko ha questa particolarità, ma in questo caso potrebbe essere semplicemente nella natura del felino, essendo spesso usato olio di pesce per alimentare le vecchie lampade giapponesi. Così come per altri yokai, le storie su questa bizzarra creatura sono davvero tante. Ho scelto il racconto che mi è sembrato più affascinante, quello del gatto scomparso. Un uomo di nome Takasu aveva un gatto che un giorno scomparve. Da quel giorno, la mamma di Takasu cominciò a comportarsi in modo strano e pretese di mangiare sempre da sola. Quando Takasu decise di spiarla per capire il motivo di tale comportamento, vide che sua madre era in grado di mutare forma. Mentre mangiava, aveva infatti le sembianze di un gatto. L'uomo decise di uccidere quel mostro, che secondo lui aveva solo l'aspetto della madre. Una volta ucciso, il corpo mutò ancora, trasformandosi in quello del suo gatto. Venne in seguito scoperto che sotto il tatami c'erano delle tavole smosse. Sotto queste tavole del pavimento erano presenti le ossa della madre. Il gatto non era mai scomparso, aveva divorato la madre e ne aveva preso le sembianze. La trasformazione in Bakeneko interessa appunto i gatti, soprattutto quelli molto grossi e anziani. È possibile riconoscere una trasformazione in corso proprio dalla capacità del gatto di camminare sulle zampe posteriori. Inoltre, il gatto comincerebbe a diventare sempre più grosso. Un Bakeneko è in grado di assumere le sembianze di una persona divorata, per poi fingere di essere quest'ultimo, allo scopo di infiltrarsi e uccidere ancora. La mimetizzazione non è però perfetta. È possibile riconoscere il Bakeneko dal suo stranissimo comportamento, non proprio uguale a quello di un normale umano, ma più simile ad una goffa simulazione.